Pronto, c'è anche Goinkresi che a Firenze ha corso bene i partiti. Cavenaco, Riomagno, Rakolforz, Mordente. Allargo Goinkresi che prova a sfondare con De Beichi. Va davanti Goinkresi, Riomagno prova a coprirsi. Mordente è lì insieme a De Beichi. Va davanti Goinkresi su Mordente e De Beichi. I tre precedono, Riomagno e Rakolforz che hanno all'esterno i due di scuderia. Cioè Rakmaninov e Sankol. Allargo di questi ci dovrebbe essere poi Baxi a precedere Cavenaco. In coda Golden Acclamation nel sito Napoli. Siamo in piena curva con Goinkresi che va via di lena su De Beichi. Mordente, Riomagno. Dietro a questi Rakmaninov e Baxi. Quando si entra addirittura Goinkresi prova a scappare. Mordente è lì insieme a De Beichi. Poi si scopre Rakmaninov in anticipo lungo sul Riomagno che ha a largo Baxi. Gli altri faticano. Goinkresi scappa ora da Mordente. Poi da De Beichi, da Riomagno, da Baxi, da Cavenaco e Golden Acclamation. Goinkresi è in vantaggio sul Mordente. Riomagno, Baxi e poi De Beichi con Goinkresi in vantaggio. Era tempo che ci girava dintorno Goinkresi e oggi concretizza e va a vincere. Lasciando Mordente e forse Sancol da rivedere il secondo e il terzo. Ma Goinkresi con Mario Sanna per Susanna Masini la porta fino in fondo. Andando a vincere il nove e precede Mordente. Il sei attaccato da Sancol, quarto e Riomagno. Da vedere il secondo posto perché è in diagonale questa telecamera. La sensazione è che all'interno si sia salvato e i dubbi vengono fugati da questa inquadratura. 9-6-11 è l'ordine d'arrivo. Goinkresi, Mordente, Sancol, quarto e Riomagno, quinto De Beichi, sesto Baxi, settimo Golden Acclamation. Poi ottavo in linea Cavenaco, Rackle Force davanti a Rachmaninov e dalla postazione centrale attendendo il rientro dei protagonisti e tutto in coda a chiuso City Napoli. Primo piano per Mario Sanna in testa di pacca dopo 150 metri convergendo dal numero largo e poi in retta. Sfuggente al tentativo di Mordente. Eccoci, Sandro, scusa. Sfuggente al tentativo di Mordente.